Buongiorno a tutti! 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 Grazie a tutti 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 Sì C'è un conto c'è un Aïe! Oh! Maxi qui! Encore! Oh! Cagliare la mousse! Cagliare la mousse! A giro su la terra! Aïe! Aïe! Aïe Marie! T'es mort! Ah oui... Oh oui! Vélification de l'oeuf... Aïe! Il y a des eaux dures! 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 Non! Ouais! Femmos! Les yeux d'eau! Non ei lo spiega! No, non hai capito! Non hai capito! Non hai capito! Bai, dai! Hai capito? Hai capito che hai capito! Hai punti che hai capito! Hai ciascuno ancora? Ha ha! Ah, hai la mia scuola del Caimio! No, 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 no. Grazie a tutti.